Grazie Presidente, colleghi, noi votiamo a favore di questa mozione perché quello che è avvenuto in Parlamento è assolutamente uno scempio indicibile e inenarrabile. Si parla di quello che è avvenuto in Parlamento, non ci dimentichiamo che nel 2013 ci sono state elezioni al Parlamento e c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittima la legge elettorale. Ora, se è vero che è avvenuto e pare che sia veramente avvenuto che c'è stata questa sentenza, se una legge elettorale è incostituzionale si presuppone che anche gli eletti siano illegittimi. Mi sembra che sia questa la lettura. Allora, un Parlamento eletto in modo illegittimo che va a modificare una carta costituzionale che è stata fatta con il sangue e il cuore dei nostri padri e è stata stralciata così da quattro barbari che bevevano lo champagne, fra l'altro rubato ai cittadini italiani. Ecco, siamo all'opposizione di questa posizione, state svendendo, stanno svendendo le nostre istituzioni, riducendo il dibattito parlamentare, gli organi di garanzia con la motivazione della velocità. Perché bisogna essere rapidi nel determinare, nel fare le leggi e voglio ricordare a tutti che quando c'è la volontà politica di operare le riforme in questo Paese, nel breve tempo, in tre giorni abbiamo stata approvata la bocca d'utri, in quindici giorni è stata approvata la riforma Fornero, eppure c'erano ancora due Camere, giusto? Quindi non ci raccontiamo delle banalità, perché ci sono stati 1.575 giorni per poter discutere la legge anticorruzione. Ragazzi, ragazzi, perché ci teniamo giovani e vogliamo proporre che queste cose non devono accadere in questo Paese? Cioè, Verdini ha contribuito a cambiare la Carta Costituzionale. Ci rendiamo conto? Punto interrogativo. Vogliamo a favore.